A Palermo dal 10 al 12 novembre, esperti del telefono amico da tutta Italia. Sì, è il nostro congresso che attuiamo ogni due anni, ci confronteremo sulle tematiche del nostro servizio e c'è da dire che il telefono amico è una helpline, cioè un'associazione di volontariato che opera attraverso il telefono e attraverso i mezzi di comunicazione che passano attraverso la voce. Il 10 venerdì pomeriggio ci sarà invece una tavola rotonda aperta a tutta la cittadinanza se vorrà intervenire sul tema appunto della comunicazione e dell'ascolto a cui interverranno diverse associazioni di volontariato che operano sul territorio. Invito senz'altro chiunque volesse si svolgerà all'NH Hotel, ex Giolli Hotel al Foro Italico. Il telefono amico, vogliamo ricordare di cosa si occupa? Sì, il telefono amico, dicevo poco fa, è una helpline che si occupa di raccogliere attraverso appunto le lettere tutti i disagi, le solitudini e le problematiche di chiunque abbia bisogno di parlare e non trova nessuno con cui parlare e con cui potersi sfogare. Siamo appunto volontari che a turno rispondiamo al numero unico 199 284 284 dalle 10 del mattino fino a mezzanotte per tutti i giorni dell'anno compreso il Natale e tutte le festività e raccogliamo decine di migliaia di telefonate appunto inerenti a tutte le varie tematiche presentate da persone le più trasversali. Cioè abbiamo gente anziana, giovani, gente matura e persone appunto che trovano un orecchio attento e una comprensione che magari nel loro entourage familiare e relazionale non riescono a trovare. Ma quali sono i disagi che più vi vengono rappresentati? Il disagio maggiore è la solitudine e appunto è quello relazionale. Cioè le persone in questione non riescono a comunicare con nessuno di quelli che gli stanno accanto e non vengono ascoltati. Poi abbiamo i problemi appunto di coppia, i problemi, i problemi, riceviamo anche telefonate suicidari, quantomeno a livello di intenzioni suicidari. Poi appunto abbiamo disagi, disagi vari, anche disagi psichiatrici, disagi psichici e riceviamo anche telefonate di persone che ci hanno scambiato per un numero erotico ma che noi riusciamo a mettere al loro posto. Se un volontario si volesse avvicinare al telefono amico, che passi dovrebbe diciamo fare? Noi a giorni, entro fine mese, cominceremo un corso di reclutamento per nuovi volontari e quindi sia in tempo se si vuole iscriversi. Possono mandare una mail al palermochioccio o latelefonoamico.it. Che tipo di formazione si avrà? Una formazione appunto su quelle che sono tutte le tematiche inerenti alle linee guida del nostro servizio, qualche rudimento anche da un punto di vista psicologico e sociologico e poi in pratica chi supera questo corso verrà ammesso ad un periodo di tutoraggio.